Adesso sta pensando davvero di mollare Fabio Petrelli. C'è una cappa che avvolge la città di Pagani, le provoca ansia, cerca di incuterle terrore senza riuscirci per fortuna. Mina la tranquillità quotidiana, la serenità delle scelte, la voglia di guardare al futuro con ottimismo e speranza. Una cappa fatta di odio politico, di rancore, di cattiveria, di invidia, di parole dette per il solo gusto di dirle, di preconcetti, di pregiudizi. È questa la denuncia sfogo che il sindaco facente funzioni affida ad una lettera aperta. Oramai da mesi scrive tutto copre e tutto infanga quella cappa. Non tenta di infangare solo gli amministratori e le loro azioni quotidiane. Non cerca di incutere terrore solo a chi ha fatto del bene comune la sua missione di vita. Non tenta di fare pressione psicologica solo su chi è considerato il nemico da abbattere. L'avversario da porre sempre è comunque sotto accusa, senza attenuanti, senza diritto di difesa. Questa cappa maledetta, scrive Petrelli, sta soffocando tutti. Sta infangando una città che in questi anni, nonostante il percorso tutto in salita, ha raggiunto obiettivi inimmaginabili. Sta screditando un popolo di lavoratori, di madri e padri, che ogni mattina si rimboccano le maniche per il futuro dei propri figli. Di giovani pieni di idee che hanno a cuore le sorti della loro terra, di anziani che guardano al passato con nostalgia ma vivono il presente con entusiasmo. È una cappa che alimenta sentimenti disperati e disparati. È una cappa creata d'arte da politicanti maldestri che anche quando hanno rivestito, denuncia il sindaco facente funzioni, ruoli amministrativi di primissimo piano, non hanno fatto altro che alimentare la cultura del sospetto. Io sono stanco. Da questo punto di vista io sono stanco di subire quotidianamente attacchi che vanno a screditare questa città, gettono, continuano a gettare fango sulla città. Mi dispiace. Sono rammaricato veramente perché questa città, l'ho detto in più di un'occasione, ripeto il mio pensiero, lasciamo che la magistratura, gli organi inquirenti facciano il proprio dovere. Io ho fiducia nella magistratura e nel lavoro degli inquirenti. Mi auguro che a ben presto si faccia luce, si inizi questo processo e si accertino le responsabilità. Però gettare fango sulla città, in questo particolare momento, da luglio ad oggi, mai un giorno di serenità, io chiedo, sono convinto che non lo merita nella città, né chi quotidianamente come me, con presunzione lo posso dire, quotidianamente scendo, vengo al comune per risolvere i problemi che ha la città. Si mette nella mia condizione, nella mia posizione. Cioè, oltre a subire tutti i problemi che tengo, tutte le problematiche, le emergenze, che quotidianamente mi attanagliano, devo far fronte con un'attenzione psicologica di stanotte, domani notte, a chi toccherà, a chi è l'amministratore di turno, il regalo di Natale. Io sono stanco, questo mi ha fatto riflettere molto. Non voglio anticipare nulla, ma sono molto orientato a lasciare. Molto probabilmente lascerò, me ne andrò perché anche per lasciare alla città un po' di serenità, perché non voglio rappresentare, non voglio passare per quello che è legato alla poltrona. Assolutamente no, non sono legato alla poltrona, non voglio essere legato alla poltrona. Mi ero assunto un compito, una responsabilità molto forte all'indomani del 17 giugno di traghettare questa città fino alle prossime elezioni. Ma, come in questo momento, mi accorgo di essere il male, la panacea di tutti i mali di questa città dovrebbe essere il sottoscritto che, sinceramente, sinceramente, oltre ad essersi assunti tutte le responsabilità, oltre ad aver lavorato nel bene e nell'interesse di questa città assumendosi delle responsabilità e nel pieno rispetto delle regole, della trasparenza e della legalità, non ce la faccio più, sono stanco, psicologicamente l'ho già detto, ne soffro tantissimo, è giunto il momento di mollare. Grazie.